Benvenuti in Italmotor, benvenuti in via Stradella 82, via Cardinal Massaia numero 5, dove troverete vetture nuove, vetture chilometri zero, vetture aziendali e soprattutto la possibilità di finanziare anche l'intera cifra, piccolissime le rate mensili comprensive di assicurazioni incendio, furto e atti vandalici. Andiamo a scoprirle insieme. E cominciamo subito con un Alfa Romeo Giulietta, un 1.6 Multijet 120 cavalli, cerchi in lega da 17 pollici, sensori parcheggio, navigatore satellitare da 6,5 pollici, climatizzatore automatico e tantissimi altri optional. Nuova a chilometri zero, avete capito bene? Nuova a chilometri zero. Due anni ufficiali di garanzia della casa madre, sarà vostra soli 17.800 euro o se preferite piccolissime le rate mensili comprensive anche di assicurazione, incendio, furto e atti vandalici. Avete capito bene il prezzo, ma ve lo ricordo, 17.800 euro rispetto a un listino che supera i 25.000 euro. E passiamo ad un'altra chilometri zero, parliamo di Lancia Ypsilon. New Ypsilon, 1.269 cavalli, Euro 6, con climatizzatore, pensate a partire da soli 8.570 euro. Avete capito bene il prezzo? 8.570 euro per una Lancia Ypsilon, nuova a chilometri zero, garanzia ufficiale della casa madre. E continuiamo con un Dacia Duster, 1.225 cavalli, solamente 28.000 i chilometri percorsi, navigatore satellitare, cerchi, lega, sensori, parcheggio e tantissimi altri optional, sarà vostra, pensate, a soli 11.800 euro. Solamente 40.000 i chilometri percorsi, stiamo parlando di una Lancia Delta 1.4 turbo, 120 cavalli, allestimento Gold con impianto GPL montato dalla casa. Quindi esenzione del bollo, avete capito bene i chilometri, solamente 40.000 e il prezzo 11.800 euro. E ancora impianto GPL, parliamo di una Volkswagen Golf 1.6 B-Fuel, 5 porte con navigatore satellitare, con sensori parcheggio, telecamera posteriore, climatizzatore e tantissimi altri optional, sarà vostra a 10.900 euro. BMW Serie 1, un 120 diesel, M Sport con cerchi in lega da 18 pollici, con sensori parcheggio, con climatizzatore automatico, immatricolata nel 2013, sarà vostra a soli 17.800 euro. Alfa Romeo Mito, chilometri zero, 1.478 cavalli, a partire, pensate, da soli 10.800 euro. Climatizzatore, cerchi in lega, fendi, nebbia e tantissimi altri optional, l'avete capito bene il prezzo, 10.800 euro. Enital Motor in via Cardinal Massaia 5, non mancano i Jeep Renegade, diversi colori, diversi gli allestimenti, diverse le motorizzazioni. Uno in particolare è un Jeep Renegade 1.6 110 cavalli, allestimento Sport con climatizzatore, che pensate, porterete via a soli 16.900 euro, garanzia ufficiale della casa madre. Fiat Cubo 1.3 Multijet, 75 cavalli, allestimento Dynamic, immatricolato nel 2015, pensate, solamente 20.000 chilometri. Con climatizzatore, ovviamente, ABS, airbag, servo sterzo, cruise control, fendi, nebbia, la versione più bella, la porterete via a soli 9.500 euro. O, se preferite, piccolissime le rate mensili, comprensive anche di assicurazione, incendio, furto e atti vandalici. Parliamo ancora di Alfa Romeo, parliamo di Mito 1.300 Multijet, 95 cavalli, motorizzazione a gasolio, che porterete via, pensate, a soli 13.900 euro. Stiamo parlando di un'autovettura nuova a chilometri zero, non stiamo parlando di un'autovettura d'occasione, ma nuova a chilometri zero. Garanzia ufficiale della casa madre. Climatizzatore, fendi nebbia, cerchi in lega e tantissimi altri optional, 13.900 euro. Porsche Macan, un 3.000 diesel, allestimento S con navigatore satellitare, con telecamera posteriore, con cerchi in lega, sensori parcheggio anteriori e posteriori e soprattutto con soli 38.000 chilometri. Lo porterete via a 59.800 euro. Dacia Lodki, 1.600 con soli 12.000 chilometri percorsi, con climatizzatore e un monovolume che porterete via, pensate, a soli 8.900 euro. 500 Living, un 1.600 Multijet, allestimento Popstar, cerchi in lega, climatizzatore, radio con porta USB e Bluetooth, solamente 20.000 chilometri percorsi. Potrete scegliere il colore, il prezzo, 11.900 euro. Fiat Panda, 1.269 cavalli, allestimento Classic, immatricolata nel 2011, impianto GPL montato e in più, climatizzatore, radio CD, solamente 40.000 chilometri percorsi, la porterete via 5.900 euro. Fiat Punto, 1.269 cavalli, euro 6, tutte con climatizzatore, fendi nebbia, tutte con autoradio CD, MP3 e soprattutto tutte nuove a chilometri zero. Saran vostri a partire, pensate, da soli 7.800 euro. Vetture nuove a chilometri zero, 5 porte, 7.800 euro. Potrete scegliere il colore, a partire da soli 7.800 euro o, se preferite, piccolissime rate mensili, a partire da soli anche 99 euro al mese, comprensive di assicurazione, incendio, furto e atti vandalici. 500 cabrio, 1.269 cavalli, allestimento Lounge, 15.000 solamente i chilometri percorsi, sarà vostra a soli 10.800 euro. Fiat Panda, 1.269 cavalli, euro 6, tutte climatizzate, tutte nuove a chilometri zero, immatricolate nel 2017. Saran vostre a partire da soli 7.700 euro, se preferite, piccolissime le rate mensili, comprensive anche di assicurazione, incendio, furto e atti vandalici. E concludiamo con Alfa Romeo Giulietta, 1.6 multijet, 120 cavalli, diversi colori a disposizione qui in Italmotor in via Stradella 82, diversi allestimenti, diverse le motorizzazioni, uno in particolare un 1.6 multijet, 120 cavalli con climatizzatore, con cerchi in lega da 17 pollici, sensori parcheggio posteriore, cruise control, navigatore satellitare da 6,5 pollici, saran vostri a partire da soli 17.800 euro. Dove ci troviamo? In via Stradella 82, in via Cardinal Massaia numero 5, vi aspettiamo da lunedì al sabato. Ciao!